Il senatore Piccone Campionati mondiali studenteschi di sci, coinvolti gli impianti di Ovindoli e Campo Felice Dipendenti delle province alla regione, siglato oggi l'accordo conclusivo L'attore avezzanese Paoloni in una prestigiosa compagnia, si è esibito al Teatro dei Marzi con Alessandro Preziosi A tutti un cordiale saluto dagli studi di Antenna 2 Sui recenti fatti di cronaca che hanno visto coinvolto il sindaco di Tagliacozzo interviene il senatore Filippo Piccone del nuovo centrodestra Ci fa piacere, scrive, che la procura della Repubblica di Avezzano abbia smentito l'ipotesi di un attentato in merito all'episodio che ha coinvolto il sindaco di Tagliacozzo Una buona notizia per il sindaco, la sua famiglia, i Tagliacozzani ma anche per il nostro territorio Dispiasce però constatare, continua Piccone, che l'onorevole Gianni Melilla del SEL abbia voluto formalizzare in una interrogazione parlamentare tale episodio definendolo grave attentato generando così con questa azione un'ulteriore allarme sociale che crea danno all'economia di Tagliacozzo che ricordiamo è un centro di eccellenza marsicano a vocazione turistica senza prima aspettare i dovuti riscontri dei carabinieri e dei vigili del fuoco a cui va il nostro ringraziamento per l'efficienza e la professionalità dimostrata Siamo stati tra i primi a manifestare la solidarietà al sindaco di Marco Testa appena avvenuto l'episodio, aggiunge il parlamentare ma alla luce di quanto sta emergendo non possiamo che rilevare come alcune ipotesi siano state legate anche in maniera strumentale al clima politico presente a Tagliacozzo Dal nostro punto di vista l'opposizione a Tagliacozzo ha spesso svolto un ruolo importante nell'interesse dei Tagliacozzani sempre nel rispetto delle regole democratiche del confronto così da non creare mai dubbi interpretativi sottolineando con forza come la politica non debba mai essere legata e confusa con meri atti di delinquenza Si eviti quindi, conclude Piccone, la strumentalizzazione di tale episodio considerato anche l'imminente rinnovo amministrativo a cui i cittadini saranno chiamati a primavera Governare una società complessa e plurale raggiungere l'obiettivo della democrazia paritaria colmando il gap di genere Un traguardo di civiltà che lo scorso 3 febbraio si è fatto più vicino con il via libera definitivo alla norma che stabilisce anche per le regioni a statuto ordinario l'obbligo a disciplinare con legge il sistema elettorale regionale l'adozione di specifiche misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive indicando anche le misure adottabili in relazione dei diversi sistemi elettorali per la scelta della rappresentanza nei consigli regionali La doppia preferenza di genere ed il quadro legislativo complessivo sul tema saranno al centro della tavola rotonda fortemente voluta dall'assessore comunale di Avezzano Alessandra Cerone in programma per il prossimo 31 marzo alle ore 12 nella sala consigliare del comune di Avezzano Relatore di eccezione Gino Scaccia professore ordinario di diritto pubblico all'Università di Teramo docente di diritto costituzionale alla LUIS di Roma e dal 1996 al 2013 consulente della Corte Costituzionale Nel mese in cui ricorre il settantesimo anniversario del primo accesso alle urne delle donne italiane ha dichiarato la Cerone stiamo organizzando un incontro formativo e di approfondimento di grande rilievo su quella che è una conquista democratica e al contempo un apporto indiscutibile alla qualità della democrazia stessa L'evento sarà anche un momento importante di confronto condiviso con le amministratrici del territorio ed organizzato anche sulla scorta delle diverse istanze raccolte al riguardo Ogni anno 200 nuovi accessi in ambulatorio di bambini per obesità e sovrappeso e 12 nuovi pazienti dai 14 ai 23 anni per disturbi del comportamento alimentare Cifre di patologie che si coniugano con vocaboli come anoressia e bulimia capaci di evocare immediatamente sofferenza, travaglio e drammi familiari Un fenomeno di proporzioni notevoli nella Marsica che la ASL ha deciso di contrastare con strategie ancora più efficaci Per la prima volta infatti un team di specialisti all'interno dell'ospedale di Avezzano ha cominciato a lavorare in sinergia su questi pazienti, giovani e giovanissimi ma l'ambulatorio si occuperà anche di adulti Si tratta di un nuovo servizio che ha fatto il suo debutto il 4 febbraio scorso e che assicura un'attività multidisciplinare di grande impatto medico e sociale Al quinto piano del presidio ospedaliero, nell'ala degli ambulatori di pediatria e di ginecologia è infatti iniziata l'attività dell'ambulatorio per i disturbi del comportamento alimentare Finora, per curare queste malattie, i singoli specialisti hanno lavorato a corsie separate senza cioè un reale raccordo, ma dai primi di febbraio operano in equip L'ambulatorio in questa fase di avvio è aperto il primo giovedì di ogni mese prenotazione al CUP con impegnativa del medico di famiglia o pediatra di libera scelta e si avvale dell'attività di axologia endocrinologia del reparto di pediatria diretto da Antonella Gualtieri, della psicologa Nadia Di Domenico dello psichiatra Lucio Pasqualone e della nutrizionista Anita Scarsella Questo tipo di patologia interessa fasce sempre più ampie di popolazione e oltre a bambini ed adolescenti anche donne post menopausa e soggetti della terza età Attualmente per anoressia e bulimia sono 16 i nuovi pazienti di età tra i 13 e i 24 anni seguiti dall'ASL con cicli di psicoterapia che durano da un anno e mezzo a due e che anche dopo la fine del trattamento continuano ad accompagnare il paziente nella guarigione Dal 2002, anno di istituzione del servizio, fino a dicembre 2015, sono stati 217 i ragazzi che hanno chiesto aiuto allo specialista della ASL contro anoressia e bulimia Al di là delle statistiche ufficiali, il fenomeno ha dimensioni molto più ampie poiché molti pazienti, per timore di uscire allo scoperto, non trovano la forza di varcare gli ambulatori della ASL Altrettanto delicata è la situazione che riguarda i piccoli pazienti da 0 a 15 anni seguiti dall'ambulatorio di axologia ed endocrinologia del reparto di pediatria Questo ambulatorio segue attualmente oltre 200 bambini ed adolescenti con obesità e sovrappeso L'assessore regionale allo sport e turismo Silvio Paolucci ha partecipato questa mattina alla presentazione alla stampa dei campionati mondiali studenteschi di sci 2016 che per la prima volta si svolgeranno sugli appennini dal 22 al 27 febbraio prossimi ospitando circa 550 atleti provenienti da tutto il mondo 17 saranno le delegazioni Austria, Belgio, Croazia, Inghilterra, Estonia, Francia, Germania, Russia, Scozia, Slovacchia, Spagna, Svizzera, Turchia, Italia A, Italia B e Serbia che prenderanno parte ai mondiali, oltre a 150 accompagnatori La cerimonia di apertura avrà luogo martedì 23 febbraio all'Aquila alle ore 17 Dopo aver rilevato l'importanza del binomio sport e scuola, una delle priorità della regione Abruzzo Paolucci ha detto che la regione parteciperà all'organizzazione dell'evento con un contributo di 110.000 euro Presente alla conferenza stampa di oggi anche il consigliere regionale Pierpaolo Petrucci il quale ha definito la gara uno degli eventi che caratterizza l'Aquila quale città dei grandi eventi obiettivo collegato al processo irreversibile dello sviluppo della montagna Tra i numerosissimi spettatori attesi è prevista la partecipazione di tutte le scuole abruzzesi Nel corso della conferenza stampa è stato annunciato che sono stati risolti anche i problemi legati alla carenza di neve per lo svolgimento delle gare di sci nordico che come sottolineato dal presidente regionale della Fisi, Angelo Ciminelli saranno disputate sempre a Campo Felice ma in un tracciato individuato più a monte rispetto al teatro della Piana scelto in origine A riguardo ascoltiamo l'assessore Paolucci e il consigliere Pietrucci Un importantissimo evento sportivo oltre che sociale che ha come teatro l'Aquila e l'Abruzzo Che cosa significa dal punto di vista turistico? E' uno straordinario momento di collaborazione con l'ufficio scolastico regionale e con il ministero dell'università E' uno straordinario momento per la regione Abruzzo e per la città dell'Aquila di promozione del proprio territorio e del proprio turismo E allo stesso momento uno straordinario momento di accoglienza di tante delegazioni straniere Io credo che tutta la regione e la città dell'Aquila sono messe la prova e per questo la regione ha voluto aderire a una manifestazione così rilevante dal punto di vista internazionale La zona interna quindi riconferma la sua vocazione di turismo montano, turismo di neve nonostante la carenza di neve di manto bianco di questi mesi E' un importante momento per dare rilevanza a quelle che sono le leve per lo sviluppo di questo territorio regionale che ha delle sue vocazioni di luogo in luogo Certamente la politica per la montagna passa anche per una leva di sviluppo così importante come quella appunto turistica Mi sento anch'io di dover ringraziare l'assessore Paolucci perché è riuscito in un momento così difficile e di difficoltà in cui stiamo vivendo ad individuare le risorse nelle pieghe di bilancio indispensabili per organizzare un evento del genere che pone ancora una volta la montagna dell'Abruzzo al centro del dibattito pubblico nazionale e non solo nazionale in questo caso europeo e internazionale E' un momento straordinario quello che stiamo vivendo, lo dicevo prima in conferenza stampa perché abbiamo monopolizzato davvero con tutta una serie di iniziative sulla montagna il dibattito pubblico grazie alla regione Abruzzo e grazie soprattutto al comune dell'Aquila Il giorno 19 febbraio alle ore 11.30 nella sala conferenze del comune di Avezzano il sindaco Giovanni Di Pangrazio e l'assessore all'ambiente Roberto Verdecchia insieme a Silvia Cardarelli, presidente della cooperativa Ambeco presenteranno il progetto Avezzano fa la differenza un nuovo progetto di educazione ambientale che si basa su una specifica campagna di informazione mirata ad incrementare una più oculata gestione personale dei rifiuti ed una più puntuale raccolta differenziata rispettosa delle norme vigenti Siglata oggi l'intesa per il trasferimento dei dipendenti dalle province nei ruoli della regione Vediamo a riguardo il nostro servizio Oggi pomeriggio a Pescara è stato sottoscritto il primo degli accordi con le quattro amministrazioni provinciali abruzzesi per il trasferimento di circa 150 dipendenti nei ruoli della regione Si tratta di uno degli step del cronoprogramma stabilito nella base della normativa nazionale regionale che prevede un investimento complessivo di 5 milioni 600 mila euro ed è relativo principalmente a funzioni che riguardano l'ambiente, l'energia e l'industria L'intesa siglata oggi sarà ora ricepita in una delibera di giunta regionale che verrà approvata entro 30 giorni Dopo la pubblicazione su Luburat il personale assegnato prenderà definitivamente servizio Ci sono ancora una serie di questioni da approfondire, ha sottolineato il vicepresidente della giunta regionale Giovanni Lolli che verranno affrontate nei prossimi giorni a partire dal ruolo che dovranno avere i comuni e gli uffici periferici dello Stato nella ricollocazione del personale delle province Il tutto, i dipendenti interessati sono 712 che non potranno però in ogni caso essere tutti assorbiti dalla regione Noi siamo pronti a fare la nostra parte, come avevamo già annunciato mesi fa in sede di avvio delle trattative ma siamo comunque legati a vincoli di bilancio di cui non possiamo non tener conto Per questa ragione stiamo procedendo all'accertamento dei residui degli anni precedenti che ci consentiranno di liberare risorse finanziarie da destinare proprio al trasferimento del personale delle province È fondamentale però che tutti gli altri attori istituzionali si impegnino a fondo su questa vicenda affinché si possa arrivare ad una soluzione definitiva nell'interesse di tutti i lavoratori Ascoltiamo cosa ha dichiarato il vicepresidente della giunta regionale Giovanni Lolli È stato sottoscritto il primo accordo che consente il passaggio di 150 dipendenti dalle province alla regione appunto nell'ambito del trasferimento delle funzioni Vicepresidente Lolli quindi ha preso il via il cronoprogramma che era stabilito anche nella legge regionale Sì, noi dobbiamo sempre ricordare che abbiamo 712 i nostri concittadini che lavoravano i cosiddetti eccedenti delle province fino a quando tutti i 712 non hanno trovato la loro collocazione non ci possiamo considerare soddisfatti La regione fa la sua parte, che è la gran parte è partita con questo primo plafond di persone che d'altra parte in rispetto alla legge nazionale sono le funzioni che abbiamo delegato più incominciamo a scegliere alcune funzioni ma nei prossimi settimane, nei prossimi mesi noi via via che il riaccertamento del bilancio dei residui del bilancio regionale liberano cassa noi continueremo a fare a step successivi le altre acquisizioni fermo rimanendo che ci aspettiamo faremo prossima settimana noi con i comuni che anche i comuni, alcuni dei quali si sono dichiarati disponibili partecipino a questo reclutamento e naturalmente fermo restando che rimane aperto il contenzioso io così lo chiamo con lo Stato e con il Governo relativo a impegni formali che il Governo aveva preso e che ancora non veniamo realizzati i centri per l'impiego che valgono circa 200 persone e noi siamo disposti fino in fondo a fare la nostra parte però riusciremo a farla se il Governo fa fronte a quello che si è rimpegnato a fare poi ci sono tutte le cosiddette funzioni periferiche dello Stato cioè gli uffici dello Stato presenti nel territorio che anche esse devono assorbire una parte di questo personale solo così arriveremo ai 712 io lo voglio dire perché mi piace sempre dire la verità a tutti e assumendomi tutte le responsabilità non ci sono le condizioni perché tutti e 712 vengono dalla Regione una buona parte sì ma questo sforzo, questo obiettivo sarà raggiunto se ognuno farà la sua parte Ieri Giovanni Lolli, Vice Presidente della Giunta Regionale presentando i nuovi investimenti delle aziende tecnologiche e dei centri di ricerca nel cratere del terremoto ha voluto riconoscere che i risultati positivi dipendono anche dalla maturità delle forze sociali in particolare dalla capacità che i sindacati hanno avuto di proporre una strada nuova per costruire un futuro migliore in una provincia dove oggi la disoccupazione è arrivata al 28% dove la cassa integrazione è aumentata del 27% che registra il raddoppio della cassa integrazione straordinaria è quanto fa presente Umberto Transatti segretario generale della CGL L'Aquila dal 15 gennaio 2013 specifica sono passati oltre tre anni da quando con Susanna Camuso presentammo all'Aquila il progetto per una città europea universitaria della conoscenza e sostenibile un obiettivo ed una speranza che ha cominciato a prendere forma e sostanza grazie all'uso intelligente di quel 4% dei fondi per la ricostruzione che le forze sociali decisero, d'accordo con il ministro Barca di destinare alle iniziative per il rilancio economico e del lavoro nelle zone colpite dalla tragedia quello di ieri è soltanto un primo passo che va però nella giusta direzione verso un cambiamento moderno ed innovativo dell'economia di questa provincia i 500 posti di lavoro stimati nelle aziende e nei centri di ricerca sono un numero molto inferiore a quello che occorre per recuperare il terreno perduto restano da sciogliere alcuni nodi che hanno pesato molto sulle azioni di rilancio del territorio e che la frenano ancora la CGL, conclude Transatti è convinta che con le aziende e gli altri investitori siano necessari passaggi concertativi e contrattuali tutte azioni utili a raggiungere l'obiettivo che è quello di recuperare gli anni di ritardo Daniele Paoloni artista ed attore marzicano martedì scorso ha recitato in casa per la precisione al Teatro dei Marzi in compagnia di Alessandro Preziosi volto teatrale e cinematografico autore della rivisitazione della commedia Il Don Giovanni lo abbiamo intervistato prima dell'inizio dello spettacolo La carriera di un attore soprattutto teatrale è un po' corredata da tanti sfumatori o comunque da tanti aspetti qual è stato il tuo percorso di vita lavorativa che ti ha portato ad entrare nel cast di Preziosi e quindi a presentarci stasera il Don Giovanni? Allora, il mio percorso parte da lontano nel senso che ho cominciato ad avvicinarmi al mondo del teatro già al liceo dove ho affrontato diversi testi con Gabriele Ciaccia abbiamo affrontato testi di Baudelaire Raymond Quenot e da lì diciamo è partito tutto ho pensato già a 18 anni di iscrivermi in accademia per realizzare il sogno ho deciso di frequentare i laboratori organizzati dallo stabile d'Abruzzo nell'ambito dei cantieri dell'immaginario all'Aquila e diciamo che quello è stato un po' il punto di svolta della mia carriera nel senso che lì nel primo anno ho lavorato su un personaggio molto forte nel sogno della notte di mezza estate di Shakespeare che era Bottom che è stato affrontato prima di me da dei grandissimi e quindi già quello mi ha dato una grossa possibilità di conoscere Andrea Baracco che è insomma uno dei registi giovani più quotati in questo momento l'anno successivo ho affrontato quello che secondo me è sempre nei laboratori dei cantieri dell'immaginario quello che secondo me è il personaggio più bello su cui ho lavorato nella mia vita attoriale quello che mi ha dato di più anche a livello di soddisfazione professionale che era Ulisse nell'Odissea e è stata un'esperienza magica proprio perché comunque sei ti ritrovi a a dover gestire non un mito non solo un mito ma una leggenda dell'immaginario collettivo lo spettacolo poi l'abbiamo fatto nella fontana delle 99 cannelle e quindi è stata un'atmosfera magica un'emozione veramente veramente grande dopo l'Odissea Alessandro che era direttore dello stabile mi ha chiamato e mi ha fatto firmare il contratto per il Don Giovanni alla fine della terza replica mi ha detto tiè firma il contratto e vieni con me in tournée questo succedeva una soddisfazione grandissima immagino e come Ulisse torna a casa anche tu questa sera torni ad Avezzano quindi la tua prima città natale la tua città natale e soprattutto la tua prima madre cittadina diciamo così quindi che tipo di Don Giovanni verrà raccontato questa sera al popolo tuo concittadino? Allora il Don Giovanni che portiamo in scena io non sono il regista quindi però il Don Giovanni che portiamo in scena è un Don Giovanni per molti aspetti classico nel senso che il testo è adattato da Tommaso Mattei con un linguaggio abbastanza ricco però allo stesso tempo contemporaneo rispettando chiaramente Molière ci sono alcune citazioni anche da Daponte però questa classicità di Don Giovanni che abbiamo scelto testualmente viene messa a confronto nell'allestimento con la modernità invece della tecnologia utilizzata per le scenografie che sono completamente affidate a delle proiezioni realizzate da un artista francese che si chiama Fabien Ilioux che sono essenzialmente dei quadri che richiamano delle sensazioni delle situazioni c'è un montaggio soprattutto nel primo tempo dello spettacolo un montaggio che è molto simile al cinema perché sono una serie di quadri di situazioni che si susseguono come se fosse un piano sequenza spezzato il Don Giovanni che Alessandro ha voluto portare in scena è un Don Giovanni che incentra la propria missione il proprio carattere sullo scardinamento delle ipocrisie della contemporaneità della società contemporanea infatti nelle situazioni che incontra durante le sue avventure perché così possono essere chiamate viene a confrontarsi con delle situazioni che hanno delle ipocrisie anche inconsapevoli che lui individua e demolisce ad esempio nella mia scena che è quella dei contadini io faccio Pierino che è il contadino innamorato di Carlotta succede questo c'è una situazione iniziale in cui ci siamo io e Carlotta che no che raccontiamo il nostro rapporto recitando subito dopo entra Don Giovanni e conquista in un attimo il cuore di Carlotta lasciando il povero Pierino a mani vuote diciamo quindi nella commedia tu appunto indossi i panni di Pierino quindi questa commedia dà il gusto un po' tragico non solo infatti i tuoi ruoli che ti competono sono quelli un po' del lato diciamo dissagrante della realtà un po' ipocrita dell'asservimento diciamo così come ti sei trovato ad indossare questi panni e soprattutto durante tutto il tuo tragitto lavorativo qual è il ruolo che magari ti sei sentito maggiormente cuscito addosso allora innanzitutto è divertente per un attore muoversi all'interno dello stesso spettacolo su diversi ruoli è chiaro che è una sfida nel senso che anche ruoli molto diversi sono perché Pierino che è un contadino che abbiamo impostato con Alessandro sull'ingenuità sulla freschezza quasi infantile quindi è un personaggio arioso non malizioso assolutamente lavoro poi sul mendicante che invece è un personaggio completamente all'opposto che è un personaggio più terrigno più legato ai bisogni primari alla fame alla fede in Dio e poi faccio un servitore di Don Giovanni nel secondo tempo che invece è proprio lo specchio dell'asservimento al potere perché è compiacente nei confronti di Don Giovanni non parlo nel secondo tempo però è tutta mimesi facciale fisica però insomma con le azioni questo personaggio è completamente innamorato da un certo punto di vista del suo padrone Don Giovanni diciamo che il Don Giovanni è una maschera che in realtà riassume in sé tante maschere perché il Don Giovanni è elegante ma è bugiardo è bello ma è anche appunto ingannatore comunque arrogante in taluni tratti ma il Don Giovanni perché è immortale una maschera che comunque si dice essere immortale è sempre valida anche nella società contemporanea ma perché Don Giovanni è un mito nel senso che come come gli eroi persegue la sua strada fino alla fine nel senso che Don Giovanni è consapevole delle sue azioni è consapevole della sua tra virgolette malvagità o correttezza nel senso che è corretto ai limiti della malvagità nel senso che non prescinde mai dalle sue credenze e per questo nonostante il pericolo incombente della dannazione eterna arriva fino in fondo lui preferisce essere dannato piuttosto che pentirsi delle proprie azioni delle quali è convinto fino in fondo e quindi è un mito a tutti gli effetti il sottosegretario alla presidenza della regione Abruzzo Mario Mazzocca partecipa domani alla presentazione del rapporto sulla 88esima adunata nazionale degli alpini e del film reportage dalla testa ai piedi la marcia degli alpini per l'Aquila che si svolgerà all'Aquila alle ore 10.30 nell'auditorium Pier Vincenzo Gioia di Palazzo Silone l'evento è promosso dall'Associazione Nazionale Alpini Sezione Abruzzi in occasione delle celebrazioni per la commemorazione dei caduti di Seleni previsti presso l'Isola del Gran Sasso dal 19 al 21 febbraio la pubblicazione del rapporto ed il film reportage ad esso allegato voluti dal presidente della sezione Abruzzi dell'ANA Giovanni Natale e realizzati dall'AGT hanno lo scopo di rendere pubblici i dati economici e di partecipazione di questo straordinario evento che è stato particolarmente dedicato agli alpini d'Italia alle zone abruzzesi colpite dal sisma del 2009 Pietro Leonarduzzi vicepresidente della Confesercenti provincia dell'Aquila rende noto quanto segue si apprende con grande disappunto che si stanno prendendo decisioni che potrebbero compromettere le attività di centinaia di ambulanti senza consultare le associazioni alle quali compete per regolarmenti e norme valide e vigenti esprimere un parere sulla fattibilità dei progetti di cui si parla nello specifico la Confesercenti si riferisce all'aumento dei giorni di occupazione di piazza Garibaldia sul Mona in tempo di giostra non si può rendere pubblica qualcosa che non è stata né concordata né deliberata senza un confronto diretto con gli operatori e le loro associazioni di riferimento più rappresentative sul territorio sarebbero troppi i mercati da tenere fuori dalla location tradizionale ed ufficiale precisa che dal punto turistico-culturale la Confesercenti è per un progetto integrato di giostra tutto l'anno in sostanza qualcosa che caratterizzi per riferimenti anche storici una città senza però concentrare le attività nello stesso periodo e nello stesso posto ricorda che gli ambulanti che occupano i posteggi di piazza Garibaldi per regolamento comunale per deliberazione di consiglio e di giunta e di determinazioni regionali per gli stessi posteggi pagano la tassa di occupazione di suolo pubblico da questa attività gli operatori traggono l'unico sostentamento per le proprie famiglie sia tutto questo si aggiunge la mancata ristrutturazione del mercato di piazza Garibaldi la non predisposizione del nuovo regolamento dei mercati su aree pubbliche e la non definizione dello spostamento del mercato in tompo di giostra la confesercenti non condivide il fatto che vengano prese decisioni fuori dall'ambito comunale competente si è svolto ieri nella sede di confcommercio all'aquila presso il terminal bus Lorenzo Natali un incontro tra la proprietà societaria della MP rappresentata dal presidente Pierluigi Marramiero e dal consigliere dell'amministrazione Mauro Santilli i sindacati di categorie ed il direttore di confcommercio l'aquila Celso Cioni nonché presidente dell'ente bilaterale per il terziario della provincia dell'aquila dopo aver esaminato in modo approfondito le complesse problematiche rappresentate dai vertici aziendali peraltro condivise da tutte le parti sociali presenti all'incontro la confcommercio invierà come nei giorni scorsi hanno già fatto i sindacati di categoria una nota indirizzata al sindaco e al vice sindaco dell'aquila quest'ultimo delegato a seguire la vertenza per richiedere un urgentissimo incontro al fine di esaminare le possibili iniziative da intraprendere e volte a scongiurare il licenziamento dei 23 dipendenti della MP il tutto nella eventualità che non si trovi una possibile ed auspicata via di uscita all'annosa vertenza tra il comune dell'aquila e la società che gestisce i parcheggi ed il termine alla bus Lorenzo Natali prima dei saluti vi ricordiamo che questa edizione del notiziario la potrete rivedere integralmente sul nostro sito internet www.antena2tv.it tra le altre cose sarà possibile rivedere i vecchi servizi che Antenna 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni ed era questa l'ultima notizia grazie a tutti per averci seguito e arrivederci grazie a tutti grazie a tutti